buonasera a tutti stasera parliamo del libro il fascismo nella storia italiana cura di Salvatore Lupo e Angelo Ventrone un libro uscito pochi mesi fa ho detto qui a fuori delle camera vedere qui la stilizzazione la testa di Mussolini uscito pochi mesi fa dalla casa editrice Donzelli Donzelli e una raccolta di saggi con i maggiori studiosi che hanno affrontato il fascismo io leggerò velocemente e allora c'è una premessa di Salvatore Lupo e Angelo Ventrone scritta a quattro mani dai due curatori poi nella parte prima la risoluzione ovvero il mito di un ordine nuovo quello che credeva di essere il fascismo poi mentre Angelo Ventrone ha scritto perché il fascismo si sentiva moderno alla ricerca dell'uomo nuovo abbiamo già credo parlato l'anno scorso Lorenzo Beraduzzi poi nella parte seconda calendario che il ventotto ottobre la data della mitica di fondazione al regime fascista con la marcia su Roma scritto da Alberto De Bernardi 5 novembre 26 lo stato autoritario nel codice Rocco lo statuto autoritario di Luigi Racquet che insegna a Macerata che ha scritto ehm 5 novembre 1926 le leggi speciali poi 11 febbraio 1929 i patti lateranensi il fascismo e la chiesa scritto da Alberto Melloni 28 ottobre 32 l'inaugurazione di via dell'impero città e paesaggio della nuova Italia poi 23 gennaio 33 la nascita dell'Iri più importante poi il 27 marzo 33 la fondazione dell'Inps il nove maggio 36 la proclamazione dell'impero il 24 ottobre 36 la nascita dell'asse la politica di potenza di Lutz Klinkhammer poi il 38 le leggi antisemite eh fascismo e razzismo di Francesco Cassata il 43 25 luglio la caduta del regime e poi l'insurrezione nazionale guerra civile e liberazione nella parte terza sentieri ci sono dei salgi sullo squadrismo gli apparati di repressione il partito unico tra il centro e periferia di Tommaso Baris i giovani nuovi italiani di Patrizia Togliani le donne le nuove italiane dal fascismo ai fascismi e l'antifascismo fino a pagina 365 è un saggio molto complesso che che serve serve soprattutto a chi vuole avere una visione d'insieme del fascismo perché eh esaurisce tutti gli aspetti principali notari a parlarne con noi ci sono i curatori professore Angelo Ventrone dell'Università di Macerata e il professore Salvatore Rubo dell'Università degli Studi di Palermo insieme all'amico Salvo Santuccio presidente della società siracusana di storia patria io eh do la parola senza prendere più tempo al professore eh Salvatore Rubo prego sì buonasera a tutti spero che mi sentiate tutti bene mi vediate certo 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 il il libro si presenta come una riflessione a distanza dalla marcia su Roma a distanza di di cento anni dalla marcia su Roma eh ma vorrebbe sfuggire alla logica della celebrazione dell'anniversario della celebrazione o o nel caso nostro forse anche dell'anti celebrazione visto che parliamo comunque della nascita di una dittatura che molti molti danni ha portato al nostro paese ma che nonostante questo l'ha eh governato e rappresenta una fase della tua storia quindi la discontinuità si intreccia con la continuità e questo è l'interesse del fascismo tutt'oggi come antimodello antiliberale ma non necessariamente antidemocratico quindi le la il fascismo ha una sua idea di partecipazione popolare collettiva e quindi strano che possa sembrare a chi non conosce questa esperienza si inserisce anche nei fenomeni di avvento delle masse al governo dello Stato quindi questo ventennio si inserisce comunque in uno sviluppo centocinquantennale il fascismo viene spesso definito come totalitario ma deriva anche e quindi in qualche modo dovrebbe essere o vorrebbe essere o viene considerato come un regime di partito unico e di pieno controllo da parte di un'elite dirigente sulla società però in verità esso deriva anche da un compromesso che già si vide nel 1922 che fu ribadito nel 1926 e poi anche successivamente con istituzioni preesistenti innanzitutto quello quelle monarchiche la tenuta la prosecuzione di un principio di legalità e di continuità istituzionale statale per non dire poi dei suoi rapporti di partnership con se poderose preesistenti la chiesa cattolica e anche in qualche modo il potere della grande industria dunque queste partnership soprattutto quella con la monarchia ma anche le altre due sembrerebbero mettere in discussione e hanno messo in discussione presso molti studiosi osservatori questa natura totalitaria del regime adesso qua siamo già nel nel controversia storiografica più importante già ne ho accennato i termini a cui gli studiosi hanno spesso dato una risposta il fascismo fu totalitario oppure un'altra fu una congestione di potere e quindi non fu totalitario devo dire che alle domande possono alla domanda può essere da possono essere date ragionevolmente entrambe le risposte è un problema di taglio e di scelta interpretativa se non che un'altra considerazione va fatta e le sistemazioni del 22 non furono definitive le sistemazioni del 26 non sono non furono definitive e per molta parte il fascismo il suo essere totalitario il suo essere rivoluzionario fu un farsi un farsi che si pone per tutto il ventennio ed ha anzi un suo momento importante nella sua fase terminale catastrofica sì noi lo sappiamo la scelta di entrare in guerra nella seconda guerra mondiale ma loro non lo sapevano perché loro invece pensavano che quello fosse il punto decisivo dell'inverarsi del farsi della rivoluzione diciamo su questo concetto si è imperniato la struttura del nostro monumento io e vendrone abbiamo fatto due saggi robusti diciamo così introdottivi chiamiamoli così la prima parte detta per suggerimento dell'editore i caratteri originali meglio forse da dirsi i caratteri di fondo cioè l'essere e che sono entrambi un voler essere un dover essere del fascismo eh per le ragioni che ho accennato cioè l'essere rivoluzionario l'essere moderno questa rivoluzione non si è fatta o non pensava di essersi fatta nel 22 con la marcia su Roma non pensava di essersi fatta nel 26 con la creazione del regime autoritario non pensava di essersi fatta nell' interminabile vario di un sistema cooperativo e scusatemi corporativo quello che vuol dire questo fu un farsi interminabile non pensava di essersi fatto a fondo con le leggi razziali pensava di aver fatto un passo decisivo con la dichiarazione di guerra solo che poi seguireva la catastra dunque il fascismo contrariamente a quello che può essere pensato semplicisticamente è un farsi che non arriva è come se non arrivasse mai a compimento la realizzazione non è mai quella pienamente che pienamente vorrebbe essere si aspetta un altro punto davanti e dunque la struttura della parte centrale del libro che si intitola calendario questa idea mi è venuta quando mi sono trovato davanti a quelle a quei testi che si chiamano calendario civile in genere referiti alla storia dell'Italia repubblicana io ho pensato che sarebbe stato lo dico polemico soltanto polemicamente giusto fare un calendario incivile quello del fascismo adesso il termine in verità è troppo forte e soltanto non buttare questo calendario del farsi del fascismo in cui il fascismo si avvicina sempre o ritiene di avvicinarsi alla sua soluzione la rivoluzione l'uomo nuovo ma resta sempre diversi passi all'indietro i termini decisivi dunque sono un termine del tempo fascistizzazione come sempre il suffiscio Ione indica un farsi quindi la creazione di una società del tutto gerarchica sotto il controllo del fascismo e chi è il fascismo è una classe dirigente che dovrà venire sono i giovani che arriveranno ma molto è anche il controllo totale di Mussolini il duce che ha sempre ragione e che rappresenta in cui si identificano le masse e che come si vede da una serie di decisioni in verità non vuole la creazione di un'elite tra parentesi perché i tiranni sempre disdegnano la aristocrazia l'oligarchia in questo caso quindi uno degli elementi fortemente contraddittori che non consente mai la stabilizzazione è il tentativo del duce di alternare le forze che lo circondano e di metterle sempre più in una forma subordinata e dunque il carattere che possiamo dire antipolitico del fascismo io personalmente ho sempre amato e chiudo diventa troppo lunga questa mia introduzione tra i gerarchi del fascismo il più interessante è Bottai ed è il più acuto ed è forse l'unico tra i gerarchi che abbia qualche interesse per la dimensione teorica e concettuale della politica lui nel momento finale del fascismo fa una dicotomia nel momento finale mentre il fascismo sta collassando lui lui non lo sa o forse l'ha capito impossibile sapere in una certa misura l'ha capito ma di sicuro non lo sa e dice che il fascismo si aggira in una sua dicotomia tra lui dice iperpartito e antipartito iperpartito perché vorrebbe concedere a una struttura con un'elite dirigente il partito tutto il potere antipartito perché non riesce mai a legittimare quell'elite il termine che noi usiamo in genere è antipolitico ma il termine più perfetto più esatto è questo antipartito e da questo punto di vista il il in questa in questa contraddizione insolubile e comunque insoluta si aggira la storia del fascismo insoluta perché quando il fascismo crolla i fascisti sono convinti di avere ancora di avere appena cominciato nel loro percorso rivoluzionario verrà un'altra rigenerazione verranno i giovani e dopo i giovani verranno i giovani è paradossale perché la classe dirigente del fascismo era composta da persone giovanissime ai nostri occhi gente che nel 1922 aveva 22 anni era Mussolini che era un po' più grande di età di questa classe dirigente questo è interessante perché quest'appello largo ai giovani viene fatto ai danni di una classe dirigente che già è giovane e dovrebbe essa andare a da un punto di vista generalmente generazionale essa non arriverà mai al potere non arriverà mai all'età di gestire il potere e subito Mussolini dirà che ci vuole un'altra generazione in questo non arrivare mai del fascismo in questo aspetto generazionale è cruciale e comunque quando il fascismo crolla i fascisti erano convinti di essere lì ad cominciare la loro rivoluzione nell'ottica in questo calendario c'è dunque la chiave della forza anche evocativa del fascismo della sua contraddizione e della sua tragica debolezza io finirei qua grazie per questa introduzione e poi ci ritorneremo sopra sulla gioventù perché tranne De Bono in effetti che teniva già una certa età il resto erano quarantenni massimo se non trentenni poi prego il professor Ventrone la sua relazione con il microfono sulla sinistra in basso a sinistra accende il microfono e e poi prego eccomi qua allora buonasera a tutti uno dei fili rossi che ha legato la stesura di questo volume e quindi i contributi di tanti amici e colleghi che sono stati coinvolti riguarda il rapporto con come diceva il professor Lupo con la rivoluzione da una parte con la modernità dall'altra cioè il fascismo è un regime che si sforza in ogni modo di sembrare moderno e che si sente moderno nell'urbanistica come il volume ricostruisce nel rapporto con le masse nella loro socializzazione politica nelle forme dell'autocelebrazione del regime stesso nella legislazione nella definizione di un embrione di stato di stato sociale ma in realtà è proprio anche la genesi del fascismo dal punto di vista teorico che va rintracciata nella modernità in particolare uno degli elementi che legano modernità e fascismo è ad esempio nella rielaborazione delle eredità lasciate dalla prima guerra dalla prima guerra mondiale il momento in cui per tanti versi inizia effettivamente il novecento 1914-15 sono veramente per tanti aspetti il momento di passaggio verso l'età verso l'età contemporanea ci sono tanti elementi che legano la prima guerra mondiale al fascismo non solo diciamo nella parte finale ovvero quella legata al mito della vittoria mutilata che tanta parte ha nella legittimazione del nazionalismo fascista ma anche nella sua genesi in fondo il termine fascista è ad esempio usato già nell'ottobre del 1915 da Mussolini stesso quando celebrando commemorando la morte di Corridoni avvenuta proprio in in quei giorni dice noi fascisti certo i fascisti in questo momento sono quelli dei fasci d'azione rivoluzionaria quindi diciamo queste queste associazioni nate un po' dovunque nella penisola soprattutto nel centro nord che raccolgono i cosiddetti interventisti di di sinistra ma è già lì che inizia poi la alcuni si vedono messi in moto alcuni dei meccanismi fondatori del fascismo la demonizzazione dell'avversario la sacralizzazione della della nazione la richiesta di perdita di della cittadinanza dei diritti di cittadinanza di tutti coloro che si oppongono o che comunque subiscono senza partecipare attivamente allo sforzo di realizzare la più grande Italia come si diceva in in quegli anni e di conseguenza tutti gli strumenti che vengono individuati in quegli anni che non vengono attuati non vengono messi in atto ma che poi costituiranno un serbatoio di idee che poi il regime a cui il regime potrà attingere faccio degli esempi eh l'idea che in realtà per eh definire diritti di cittadinanza non conti il passaporto quindi la cittadinanza acquisita ma il luogo di nascita e quindi campi di internamento chiedono gli interventisti di vario orientamento per tutti coloro non solo per i cittadini degli stati nemici con cui si è in guerra quindi tedeschi austriaci bulgari ottomani ma anche per tutti coloro che in qualche modo sono stati si pensa possono essere stati contaminati dalla cultura eh tedesca anche gli emigranti eh italiani che hanno imparato a parlare tedesco chi ha un marito o una moglie eh o una moglie tedesca o austriaca o ottomana o eh o bulgara eh viene immaginata la costruzione di un apparato spionistico di massa pervasivo capillare eh vengono immaginate le prime forme di aggressione fisica sistematica contro gli avversari i primi assalti con la dispersione nei navigli a Milano delle copie dell'Avanti quotidiano socialista si hanno alla fine del mila novecentodiciassette così come le aggressioni ai primi dirigenti socialisti quindi prima della nascita dei fasci di combattimento nel marzo del diciannove già diciamo c'è tutto un magma che ribolle e che comincia a prendere alcune forme molto eh molto precise a mio avviso un momento di passaggio fondamentale è rappresentato da un articolo che Mussolini scrive nel luglio del mila novecentodiciassette anche qui per commemorare un caduto Cesare Battisti impiccato nel luglio del sedici dagli austriaci l'irredentista Cesare Battisti in cui Mussolini è molto chiaro da questo punto di vista cioè dice guardate che ehm i socialisti avevano promesso di incrociare le braccia di rifiutarsi di combattere per una guerra scatenata solo a vantaggio della borghesia eh avevano sostenuto che in realtà i fratelli i proletari di qualsiasi paese fossero tutti fratelli e che la borghesia di qualsiasi paese compreso il proprio fosse il nemico eppure dice Mussolini quando scoppia la guerra i socialisti si mettono disciplinatamente la divisa vanno a combattere e fanno il loro dovere la stessa cosa vale per i cattolici anche i cattolici avevano detto niente guerra contro niente guerra in generale niente guerra tanto più contro paesi cattolici come ad esempio l'impero austro-ungarico uno dei baluardi storici del cattolicesimo eh europeo eppure quando è stata dichiarata la guerra anche i cattolici si mettono la divisa e fanno disciplinatamente il loro dovere Mussolini che conseguenze ne trae dice beh questa è un'evidenza che eh il socialismo e il cattolicesimo sono idee morte che non fanno presa nell'animo delle persone perché alla fine decine di milioni di uomini in tutti i paesi eh di fronte alla mobilitazione bellica hanno indossato la divisa e sono andati a combattere nel nome della nazione ecco io credo che questo articolo sia un articolo fondamentale per spiegare eh diciamo l'accelerazione del passaggio di Mussolini dalla sinistra rivoluzionaria alla destra e poi al fascismo e questo indica un elemento interessante cioè che noi siamo stati abituati a considerare il novecento come il secolo degli estremi come dice il titolo inglese del che è stato tradotto in italiano il secolo breve direi Eric Hobsbaw il titolo inglese è the age of extremes l'età degli estremi nazionalismo contro internazionalismo fascismo contro comunismo democrazia contro fascismo e via dicendo e in realtà andando a vederlo da vicino vediamo che le barriere ideologiche sono molto più permeabili di quanto abbiamo sono state molto più permeabili di quanto abbiamo creduto e che è possibile il passaggio dalla destra rivoluzionaria alla sinistra rivoluzionaria certo un passaggio non indolore pensiamo anche a quanti migliaia di quadri sindacali fascisti caduto il fascismo entrano nella cgl socialcomunista il passaggio anche qui non è indolore dal nazionalismo devi passare all'internazionalismo dall'idea che esistono individui migliori individui e popoli migliori individui e popoli peggiori devi passare l'idea che in realtà sono tutti gli esseri umani sono tutti uguali però alcuni nemici in comune l'individualismo il materialismo l'edonismo il parlamentarismo permettono questa questa transizione soprattutto dalla sinistra verso destra durante la prima guerra mondiale e poi dalla destra verso la sinistra una volta caduto il fascismo quindi rispetto al secolo il novecento come secolo degli estremi per certi versi dobbiamo dire che il novecento è stato il secolo della contaminazione ideologica da cui nasce peraltro il fascismo perché come prova a spiegare il libro come ha già accennato Lupo Salvatore Lupo il fascismo nasce da una contaminazione cioè nasce dalla ripresa di valori di destra l'ipernazionalismo ad esempio la struttura gerarchica della società e del potere ma accettando alcuni elementi tipici della sinistra in particolare in questo caso l'idea della rivoluzione che naturalmente viene 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 rielaborata ci sono altri elementi che mostrano la modernità del del fascismo certo una modernità spesso annunciata che poi non riesce a cogliere i frutti che si propone di raggiungere però è una modernità che dà senso di legittimità al fascismo agli occhi dei fascisti stessi e non solo ad esempio l'idea che il fascismo è più moderno degli altri di altre dottrine politiche di altre culture politiche le altre il liberalismo la democrazia il socialismo sono nati fra settecento e ottocento erano adeguate a una società di un certo tipo relativamente statica in cui al di là dei principi affermati il potere nel caso del liberalismo della democrazia il potere rimaneva nelle mani di ristrette elite ma poi ma quando l'accelerazione della storia a fine ottocento e soprattutto durante la prima guerra mondiale cambia il ruolo delle masse beh allora dice il fascismo c'è bisogno di un nuovo regime politico più adeguato ai tempi e questo è interessante vedere come quanto forte sia il contributo della scienza nella costruzione dell'ideologia fascista cioè noi abbiamo pensato spesso che i nemici della democrazia siano anche nemici della razionalità e quindi della scienza e in realtà non è non è così il fascismo il nazismo hanno utilizzato ampiamente le scoperte della scienza del tempo per poter costruire un regime politico nuovo e originale anche qui faccio degli esempi la psicologia delle folle evidentemente cioè come si governa come si governano le masse qual è il ruolo della suggestione nel momento in cui decidi di comunicare con le masse più del discorso razionale secondo il fascismo è secondo la psicologia delle folle in particolare Gustavo Le Bon è consegnato da Mussolini uno dei suoi maestri nel momento in cui si parla con le masse il momento suggestivo deve prevalere sul discorso razionale sul discorso persuasivo la psicologia delle folle si definisce negli ultimi decenni dell'ottocento deve molto alle scoperte ad esempio dell'ipnosi anche Freud inizia la sua carriera come medico ipnotista e poi considerando una terapia non adeguata via via elabora la psicanalisi ma l'ipnosi è il tentativo del medico soprattutto per curare la schizofrenia la scissione della personalità di attraverso metodi suggestivi di imporre una sola voce negli individui che sono abitati da tante personalità da tante voci e quindi sembra il sistema migliore per poter governare la società di massa in cui ci sono tanti atomi tanti individui ognuno con una propria volontà ognuno con una propria voce ebbene il capo carismatico ha il compito attraverso la suggestione la manipolazione delle emozioni collettive di riportare tutto a a unità ma pensiamo naturalmente al ruolo del darwinismo la vita e lotta per la sopravvivenza e quindi il ruolo fondamentale rigeneratore propulsore della guerra e della violenza pensiamo al ruolo dell'eugenetica che poi anche nel fascismo si farà sentire in modo evidente con le leggi prima discriminatorie contro gli etiopici poi le leggi razziali antisemite nel 1938 forse il caso più interessante è rappresentato da quella che viene chiamata la biologia politica di cui il campione sarà Nicola Pende uno degli estensori del manifesto della razza del 1938 la biologia politica cosa sostiene sostiene che un regime politico deve essere costruito letteralmente sul modello di un organismo vivente chiaramente quindi ogni cellula deve svolgere il suo mestiere non deve travalicare dei compiti che gli sono stati affidati dalla natura se le cellule del cuore iniziano a mettersi in testa di fare di svolgere un'altra funzione l'organismo impazzisce va incontro al collasso nasce il cancro come lo chiamano appunto questi autori che distrugge l'organismo quindi ogni cellula ovvero ogni individuo deve fare il dovere deve eseguire i compiti che la natura gli ha affidato i migliori devono comandare le masse devono ubbidire ed essere educate a ubbidire ma forse si va ancora più in profondità perché le scoperte della scienza che mostrano come gli organismi più evoluti siano quelli con l'organismo con il sistema nervoso più accentrato e chiaramente al vertice della catena c'è l'essere umano sono appunto gli esseri più evoluti sono quelli con il sistema nervoso più accentrato cioè col sistema dei comandi più accentrato e quindi anche il fascismo costruisce il modello di partito sull'esempio del sistema nervoso dell'essere umano un capo cioè il cervello che trasmette gli ordini e che il partito comunica poi alla periferia attraverso le sue varie infinite associazioni o gruppi da cui è composto basta pensare che alla fine degli anni 30 con circa 21 milioni gli italiani iscritti al partito fascista o alle sue alle sue associazioni l'ultimo elemento su cui volevo richiamare l'attenzione riguarda il ruolo rigeneratore della violenza che il fascismo rivoluzionario sostiene perché il ruolo rigeneratore della violenza perché c'è il darwinismo sociale come abbiamo detto ma c'è anche l'idea che la vita contemporanea in realtà spossi gli esseri umani d'altronde basti pensare alla letteratura di fine ottocenti inizi novecento dal decadentismo all'inetto di Svevo l'uomo senza qualità di Musil gli ammalati di Spleen dei romanzi di Jules Verne i blasé presenti in tanti romanzi cioè gli uomini spossati senza vitalità morti oppure alla nevrastenia che viene considerata la malattia tipica della modernità cioè la debolezza di nerpi perché? Perché la vita contemporanea è troppo dinamica troppo piena di novità troppo piena di cambiamenti troppo frenetica troppo anonima e quindi tutti questi sommarsi di questi elementi svuota il sistema nervoso dell'essere umano di energia l'essere umano quindi si indebolisce si chiude in se stesso si sente impotente rispetto a un mondo di cui su cui non ha più alcun controllo e addirittura anche sul corpo non ha più il controllo neanche del proprio corpo tanto da sprofondare appunto nell'inedia e quindi da lì possiamo capire l'esaltazione della guerra del sentimento bellico come strumenti necessari per ogni individuo colpito dalla modernità per mettersi in gioco rischiare il tutto per tutto essere costretto di fronte alla prova suprema la lotta per la vita o per la morte a scoprire se stesso le proprie qualità e nello stesso tempo a scoprire che da soli nessuno ce la fa in guerra da soli non si può sopravvivere si sopravvive solo se si stabiliscono legami di solidarietà di amicizia addirittura di affetto con chi combatte al proprio fianco e infatti non è un caso che il fascismo teorizzerà la trincerocrazia il potere da affidare agli uomini che vengono dalle trincee perché il modello è quello del cameratismo in cui nella in trincea c'è una comunità che è sì gerarchica l'ufficiale il migliore che comanda e gli altri sono pronti a ubbidire ma l'ufficiale è pronto a dare la vita per i suoi soldati i soldati sono pronti a dare la vita per il per il proprio ufficiale ecco questo modello che io poi ho definito della fratellanza gerarchica è quello attorno a cui il fascismo vuole modellare l'Italia del futuro va bene salvo che dici conduci tu un dibattito fai qualche domanda intervieni tu in modo che voglio sottrarti qualche riflessione prego sì con piacere già dalle parole buonasera a tutti già dalle parole del professore Lupe del professore Ventrone sono tanti gli spunti di riflessione che non solo i loro interventi ma tutto il testo ci dona potremmo partire dall'ultima affermazione del professore Ventrone che forse si ricollega col primo capitolo del testo sul fascismo del professore Lupo il ritorno dal fronte perché forse è una delle prime chiavi di lettura della nascita del fascismo e poi da quello che si evince dal loro racconto e dal racconto di questa curatella che è estremamente interessante e di quale fascismo stiamo parlando di quale periodo stiamo parlando perché anche quella è una cosa estremamente utile da individuare e la calendarizzazione che loro propongono in questo curatella per me diventa molto utile allora parto dalle prime affermazioni anche del professore Lupo cioè se il totalitrismo effettivamente se il fascismo è effettivamente un regime totalitario se possiamo inquadrarlo in questo sistema perché da Anna Arendt ma a Cuarone e piuttosto che secondo me anche lo stesso De Felice dice Talenante e perché no anche Emilio Gentile no? Cominciano a individuare caratteristiche differenti da quello che oggi individuiamo come regime totalitario stalinista piuttosto che nazista e abbiamo gli altri due poteri ovviamente in Italia che sono quello della monarchia e della chiesa che sono entrati e hanno mantenuto la loro distanza o connivenza durante il regime però diversificando la loro politica per certi versi e quindi prima è un regime totalitario poi sono molto affascinato dal fatto dell'altro aggettivo spesso utilizzato che è un che è giovane è sempre un movimento giovane continuamente infatti dagli studi che ho fatto io parlavo prima con il professore Lupo una studia che si sta facendo sulla Sicilia con il professore Saia e io mi sono occupato di Siracusa la prima epurazione degli fascisti sia nel 1923 cioè dalla nascita del 19 cioè nel 1923 abbiamo un cambiamento totale a livello locale i vecchi fascisti ma non sono in realtà che quelli che hanno creato il partito hanno portato il partito nel 20 già nel 23 erano vecchi era cambiato qualcosa quindi un partito sempre che si trasforma in continuazione e forse anche un antipartito in questo senso la leadership di cui si parlava è una leadership che è mantenuta non attraverso un percorso burocratico ma è una leadership in mano a Mussolini che cambia continuamente i gregari mentre in Hitler faccio un esempio banale troviamo Sper che lo seguirà per quello che riguarda per esempio il capitolo di Nicoloso che parla proprio dell'urbanistica personaggi come Piacentini Moretti Terranni sono continuamente presi di mira nel senso che non c'è un architetto di riferimento non c'è un architetto che possa dire di essere come Sper in Germania perché Mussolini stesso come dice Nicoloso nel Mussolini architetto ha un dossier preciso per ognuno di questi in modo da se qualcuno avesse alzato la cresta di poterlo bloccare quindi c'è un regime ma è un regime che è a pannaggio di un unico individuo che non crea sostanzialmente un movimento stabile ma la cultura fascista è una cultura sempre in divenire un'altra domanda un altro capitolo affascinante veramente il primo quello del professore il secondo che è il professore Ventrone quello del Blaset la figura del Blaset è una figura che secondo me è estremamente utile per capire come dire una chiave di lettura forte per quello che riguarda il cambiamento di mentalità in Italia perché il fascismo senza questo background intellettuale non si riesce a capire cioè come mai un'intera nazione è stata affascinata da una da una serie di discorsi molto importanti che per certi versi hanno erano veramente traumatici ma nel frattempo erano affascinati faccio esempio del discorso sulla responsabilità dell'omicidio di Matteotti questo discorso del venticinque inizio del venticinque il gennaio del venticinque avrebbe dovuto cambiare le sorti del fascismo ma in realtà diventa un discorso che è fatto a funzionare il Parlamento la pressa proprio di responsabilità del presidio fascista di se stesso come il capo di questo movimento di questo omicidio doveva portare un'irritazione non solamente del re ma insomma di tutta la popolazione italiana ma in realtà non portò a nulla anzi fu un discorso che come dire una presa di consapevolezza e quindi di autorità ancora l'autoritarismo diventa importante quindi sono momenti parole ecco un'altra cosa importante di questo testo è che cita molte parole chiave che secondo me sono veramente risolutive di un per capire il regime e sono regime stato rivoluzione totalitario corporativo diciamo prima ma anche secondo me quello che diceva il professore quello che scrive il professore Lupo di frantumazione anche la frantumazione la frantumazione dello stato la prescienza di classe dell'interesse sono tutti meccanismi spiegati all'interno del testo che ci permettono di focalizzare vent'anni di questo del come diceva il professore Ventone prima dove a livello psicologico gli italiani sono stati avvolti da una struttura diversa che li ha affascinati da una parte terrorizzati dall'altra ma non li ha fatti uscire fuori da questa da questa visione che non so se è una visione veramente politica perché qual è la politica fascista effettivamente e di di che periodo ecco questo io volevo chiedere ok se c'è un altro no no se io volevo fare una riflessione di 30 secondi un minuto è stato detto poco fa che il fascismo è nato dall'indifferenza alla polemica della presenza il fascismo non è nato sull'indifferenza alla sensazione il fascismo è durato 20 anni ed è mia convinzione che se non ci fosse stata la parentesi la brusca interruzione della guerra sarebbe trovato altri 10 e 20 che l'Italia tipo la Spagna perché era entrato nel sentimento della nazione e questo volevo dire il fatto dell'avvicendarsi come diceva pure prima Salvatore Lupo il fatto dell'avvicendarsi di nuove generazioni faceva riferimento a nuove generazioni l'avvicendamento del magmatico diciamo ogni due tre anni anche in provincia di Caserta che ho studiato se cambiavano i quadri dirigenti cioè cambiare le pedine alla base anche un modo per preservarsi dall'alto nel senso che io sto in alto e poi cambio chi ne sta sotto nel senso che in questo continuo troubillon di porteggirevoli che era il fascismo della base prego quindi facciamo rispondere professore Lupo e professore Ventrone e poi concludiamo la cosa se vuoi fai tu la domanda al finale prego professore sull'alco ecco microfono ci sono riuscito sì mi pare che di essere d'accordo con tutte le cose che sono state dette il fascismo non ha una ideologia è un regime ideologicamente composito il che ovviamente rende il suo totalitarismo ancora più sfuggente il suo non ha un filosofo ufficiale perché quello che assomiglia di più al suo filosofo ad essere un filosofo ufficiale cioè Giovanni Gentile viene col tempo messo fortemente in discussione viene messo fortemente in discussione dall'elemento cattolico o clerico fascista se vogliamo usare questo termine che diventa sempre più forte e arrogante usiamo questo termine dopo il concordato ma non soltanto il gentilismo viene anche messo in discussione dagli elementi radicali che nascono anche dal suo stesso seno basterebbe pensare alla figura di Ugo Spirito e la sua interpretazione estremistica del corporativismo come una specie di paracomunismo Ugo Spirito era un allievo di gentile e poi si sposta a capitanare una di queste frazioni radicali l'ideologia del corporativismo che sarebbe poi un elemento dovrebbe essere un elemento qualificante del fascismo dell'ideologia del fascismo è estremamente composita e contraddittore il suo interno perché nella sua versione originaria quello di una specie di super sindacalismo che va al governo giusto fu quella quindi rappresentata dalla figura di Rassoni fu quella che Mussolini stette ben attento che non prendesse mai piedi non solo perché temeva ne potesse risultare qualche altra forma di coscienza di classe ma perché lui non voleva un apparato con cui dover condividere il potere e tutti questi tutti questi soggetti ideologici e politici tendevano a creare amparati amparati che si sovrapponevano l'uno all'altro e poi arrivava a un certo momento il momento che Mussolini li metteva da parte in breve per un periodo per sempre e questo fu quello che successe allo stesso Bottai che fu chiamato da Mussolini per creare un corporativismo che facesse da contraltare a quello di Rassoni ma poi quando si prese troppo sul serio e pensò di voler poter fare lui stesso un contraltare della grande industria Mussolini non ebbe nessuna difficoltà a metterlo fuori combattimento non nell'eterna frustrazione di Bottai che come accade ci ha lasciato poi ha provocato poi ha suscitato poi la riflessione più autocritica più interessante dei fascisti stessi su questa legalità che non dura un attimo no? Sulle istituzioni che vengono messe da parte prima di istituzioni rivoluzionali che vengono messe da parte prima ancora di cominciare a funzionare e la riflessione sul corporativismo alla fine c'è anche un corporativismo che è semplicemente una forma nuova di statalismo che è quello che funziona meglio diciamo così che dà luogo alla grande esperienza dell'industria mista italiana ma nessuno dei fascisti rivendicava ideologicamente queste esperienze perché Alberto Beneduce veniva considerato non attorto di cultura antifascista e i fascisti veri lo detestavano e riuscì a fare quello che riuscì a fare solo in forza il suo rapporto personale con Mussolini che lo copriva che gli lasciava lo spazio dovuto e nel contempo lo copriva da tutte quelle critiche sarebbe durato altri vent'anni come la Spagna beh però c'è un aspetto che la la guerra non è una variante insignificante anzi è una variabile centrale nel nel fascismo maturo nel fascismo voglio usare questo termine fascistizzato fascistizzante il processo di fascistizzazione si accompagna a un'accentuazione delle guerre cosa che non avviene in Spagna e cosa che non avviene in in nelle in molte altre esperienze cosiddette fasciste fascisteggianti che so il peronismo in cui non essendo collocate queste esperienze al centro dei grandi conflitti europei questo aspetto non c'è mentre invece c'è nei casi nel caso italiano così come c'è nel caso nel caso tedesco adesso evidentemente il bellicismo italiano si alimenta della vicinanza con quello tedese della concorrenza dell'esempio e della vicinanza che è un altro elemento della indefinizione ideologica del fascismo perché i fascisti del 30 e del 31 si si paragonavano e si rapportavano all'esperienza sovietica stalinista dopo il 34 si vanno rapportando e paragonando e commisurando con l'esperienza nazista come se avessero sempre bisogno di qualcosa che gli diceva di dover dimostrare che loro erano veramente rivoluzionari che non era una fisica finale interessante lo rilevo il libro storia di un anno di Mussolini il quale lui nel momento decisivo della crisi nel 44 disse che il regime non era mai stato rivoluzionario perché una rivoluzione è un'altra cosa la si farà sì la si farà in futuro sì perché Mussolini era impegnato ci credesse o no nella costruzione della repubblica sociale quindi anche fino all'ultimo pur avendo ammesso pur avendo ammesso che lui stesso lui perché era lui quella rivoluzione non era mai era sempre stata una presa in giro non rinuncia a disegnarne un'altra per il futuro questa è la la natura profonda del fascismo la natura profondamente come la chiamiamo demagogica del fascismo demagogica cioè il l'usare e per questo il fascismo la questione delle parole chi l'ha detta la questione delle parole è una questione chiave il fascismo è un regime profondamente di parole e di fatto l'innovazione il livello dell'innovazione linguistica è formidabile noi spesso ce le troviamo ancora oggi le terminologie introdotte senza senza magari saperlo più o ricordarlo più dunque da questo punto di vista il fascismo questo attenzione dico la politica è sempre composta da parole questo è ovvio ma lo scarto demagogico tra le parole la magniloquenza degli obiettivi e la la rinuncia poi o l'incapacità di realizzarli è straordinaria in questo regione straordinaria dunque anche questo è un segno di modernità sì forse anche questo è un segno di modernità perché la prevalenza dell'immagine il modo in cui l'immagine va a creare la realtà comunque diciamo molte altre cose andrebbero dette direi che io mi posso fermare qua grazie questo ventrone lasciamo concludere grazie allora brevemente come mai il nazismo il fascismo poi la domanda di prima che ci ha fatto salvo Santuccio come mai sono riusciti ad affascinare così tanto nella loro epoca perché in effetti provano a rispondere a domande diffuse che hanno interessato e coinvolto tutte le culture rivoluzionarie tanto di destra quanto di sinistra come dirò proverò a dire adesso le domande che le culture rivoluzionarie di destra o sinistra si sono fatte sono state molto simili non identiche ma molto simili le risposte sono state chiaramente molto spesso molto diverse quali sono queste domande qual è il destino dell'essere umano nel mezzo di questi cambiamenti che l'età contemporanea ha portato cambiamenti così travolgenti nel mezzo di questa accelerazione della storia di fronte alla rottura dei reticoli di solidarietà familiari amicali tipici delle piccole comunità perché la vita moderna ormai è troppo contemporanea è troppo frenetica anonima veloce per poter costruire saldi legami legami sociali qual è il destino dell'essere umano nel mezzo del dominio di forze impersonali che stanno mostrando tutta la loro capacità di trasformare la vita contemporanea appunto la finanza l'economia la tecnica come fa una società a stare insieme se la diffusione del benessere dei consumi rende gli esseri umani sempre più individualisti sempre più concentrati su se stessi una società fondata solo sul do non può reggere quanto a coesione e quindi c'è bisogno con la forza e anche con la propaganda con le buone e con le cattive di una socializzazione forzata che spinga gli esseri umani a ritrovare quei legami quei vincoli sociali senza cui ogni specie vivente come ha insegnato il darwinismo è destinata alla decadenza perché naturalmente solo le specie compatte forti riescono a vincere la lotta per la sopravvivenza altrimenti c'è da ogni passo a qualche gruppo appunto più coeso e quindi più forte come salvare anche la centralità dell'essere umano quando la scienza ci ha mostrato che la specie umana è in realtà solo un momento di passaggio in una storia enormemente più lunga che viene da molto prima della comparsa dell'uomo e che proseguirà sicuramente molto dopo anche la sua scomparsa e da qui possiamo capire meglio la centralità della politica che l'idea di rivoluzione l'idea di totalitarismo portano con sé centralità della politica cioè centralità dell'essere umano della sua volontà della sua capacità progettuale per recuperare appunto un protagonismo una centralità che l'età contemporanea sta corrodendo e indebolendo sempre di più grazie io concluderei quindi siamo stati di 55 minuti ci salutiamo qui il video verrà caricato tra pochi minuti sul canale storia ecologale è stata una bellissima presentazione del libro ricordiamo il fascismo nella storia d'Italia a cura di Salvatore Rubo e Angelo Ventroni progetti Donzelli casa editrice Donzelli grazie e buona settimana grazie a tutti voi grazie grazie